Musica Nuovo video di Minecraft dove se tu spacchi un blocco succede una catastrofe Ti dico due regole Fere, niente TNT e niente Creeper Ma parlo proprio che se succede una delle due cose esplode il mondo Vabbè la TNT non penso di potermela procurare Non credo Però te lo dico per sicurezza perché ti chiami Fere, niente Fiu Però Fiu, non Fiu Fiu È più carino Non è vero, fa stifo, perché non sai pronunciare il mio nome? Guarda cosa succede se spacchi un blocco Sei uno di quelli che scrive Fere con la F Perché ce li adatti come grass block e non come... Vabbè, meglio Allora, ascoltami un attimo È un disastro questo mondo, io te lo dico già Allora, da quello che ho capito Se tu spacchi un blocco ti dà tantissimi blocchi di quel blocco Brava Capito tutto, no? Sì, fino Il problema quindi cos'è? Se un creeper esplode, pensa che fanno esplosioni ai dieci blocchi No, devo Quei dieci blocchi vengono moltiplicati e tu crashi Devo far esplodere un creeper No, no Fere, non hai capito? Crashiamo Perfetto, va benissimo Fere, crash Se lo trovo lo faccio esplodere, Steph Fere, crash Guarda cosa è successo? Almeno si va a risparmio Cioè io questo lo rimetto pure qui L'albero sta bene È tutto a posto, no? C'è Guarda, possiamo anche fare qualcosa di bello nel mondo Ovvero ripiantare tantissimi alberi Guarda 20 mila Fere? Sì 20 milioni anzi 20 milioni, esatto, Steph Allora Oggi li puoi piantare qui su Minecraft Ma serve una vita reale E dare anche dei consigli educativi Beh, perché se lo vedrò fare su Minecraft lo faranno anche nella vita reale Comunque, Steph, come te la vuoi gestire? Ho trovato un cheat Cioè? Guarda, questa è magia Piazzi uno Rompi Di nuovo Funziona lo Steph No Pensate a essere così con i soldi E quindi anch'io adesso questi, guarda Facciamo così Li trasformo E se li rompo me ne da tantissimi Capito quello che voglio dire? Tipo io faccio questo Mi faccio un'ascia per essere più veloce, ok? Facciamo subito l'ascia Cosa sta combinando Steph che lo sento prendergli danno? Faccio una casa Tanto ormai siamo a posto Beh, Steph, è finito il video Hai tutto di tutto Guarda, eh Steph Sì Se io ne metto uno qua E lo rompo? Eh, per me, ormai non fa più ridere Ma si moltiplica tutto E anche le crafting Quante me ne danno? Ecco Ma guarda che tu pensi che sia solo positivo Ma non è così, eh Quindi, occhio No, non è per niente positivo, infatti È l'inventario proprio di festerie Già Allora, continuiamo a costruire la casa, va? Sto cercando di fare una forma anche un po' strana Dato che siamo ricchi Infatti sto usando anche lo hack normale Che non lo usi mai di solito Esatto Per far qualcosa di carino Allora, magari facciamo ancora uno Allora, seguo la tua forma, va? Così Ok Costruiamo insieme E poi andiamo di nuovo di qui Andiamo di nuovo di qui Allora, Ferre Devo provare una cosa Se chilo un maiale Quanta carne ricevo? Non ne ho idea Non lo voglio sapere No Hai visto? Sì No Ferre Oggi facciamo un barbecue Vabbè, anche qui Rispetto per l'ambiente, Stefano Senti che picchiarne 50 Ragazzi, è un paradiso questa cosa Allora Mica tanto No, no È negativissimo Quando spacchi i semini per sbaglio Però C'è se abbiamo un inceneritore Se abbiamo un inceneritore Siamo a posto Vediamo un attimino Se io mi creo Un bel piccone Vado a prendere la pietra La crafting Abbiamo cibo forever Vado Ah, ma lì l'hai fatto da quattro Non da tre Oh, cavolo Eh, tenta Non c'è più spazio, Stefano No, ora non si può rompere tutto Rimarrà storta per sempre Inizia a risultare un problema Al fatto che i blocchi si moltiplicano, eh Sì, assolutamente Allora Uno Due Ecco la pietra abbiamo finito Inventario pieno Allora, aspettate che buttiamo Magari un po' di semini Un altro po' di semini Che ovviamente non ne faccio nulla E gli stick Che ne posso fare molti di più Ok, va bene così Perfetto Arrivo Come va? Malissimo Quanto vorresti trovare i diamanti? Sì, quello sì Andiamo a cercarli, Stefano No È una follia Allora Opla 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 Ok Ho l'inventario troppo pieno Oh my god Bisogna fare delle cast Tantissime Facciamo così Ci butto questi Tanto, raga, non conta nulla E continuo A fare altre fornaci Una Due È abbastanza arredita No Che c'è? Mi sono distratta Quindi hai sbagliato di nuovo? Esatto così Che è successo? La pioggia Di cosa? Di blocchi Che brutta Allora Boh, la chiudo qui la casa Sarà tutta storta Ma ragazzi Come potete ben capire Io non posso modificare Quindi facciamo così Ok Ok Facciamo così Ho messo in due secondi Della carne infinita a cuocere Praticamente Perfetto Così Adesso Mi devo creare Facciamo Facciamo così Ok Poi Facciamo così Facciamo così E facciamo così Lo creo per entrambi Sia per me Steffo Dovevamo lasciare lo spazio Per la porta E Fered Certo che lo avevi Ti sei dimenticata? Sì Non ti girare Steff Fai così Non ti girare Ok Ok Non guardare mai Quello che c'è alle tue spalle Prima e poi devo No non devi Non devi Tranquillo Tranquillo Lascia perdere Così come ignoreremo Gli ostrigati Che stanno smontando I mobili di casa E li stanno ricostruendo Porca miseria Alloro Allora Butto questo Butto questo Hai fatto delle casse No Però ne possiamo fare infinite Vai Ci penso io Una Vai 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 Due Tre Quattro Dovremmo fare anche un tetto Cinque A dire la verità Che cosa? Dovremmo fare anche un tetto È vero Che poi ti stavo per dire Ah facciamo anche il pavimento Ma il problema è che dovremmo togliere Sia l'erbaccia Quindi i semini E sia la terra Quindi altri blocchi inutili Allora Io sto usando la tattica ceste Vai 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 Cioè piazzo le cose per Vedi Così non tolgo i semini Ah ok Però non puoi piazzare solo ceste così Scusami Eh lo so Però ne ho piazzato molte Allora Mi prendo magari la carne da qui Riprendiamo anche tutti questi Che devono stare in giro Questa Ma come faccio ad avere l'inventario pieno Cos'è successo? Butto queste Hai preso qualcosa che non volevi prendere Guarda quanta legna abbiamo È infinito Facciamo così e creiamo anche il carbone Allora io il pavimento lo faccio Che tessuto? Tutto in acqua Va No però Un po' troppo Che succede? Pere Stai bucando tutto vero? Sì Tra un po' cresciamo Me lo sento Me lo sento che tra un po' cresciamo Allora vado a buttare un po' di cose in acqua Ok Perché se no Riempio le ceste di roba inutile Allora Antossimini così tanti non ce ne serviranno mai Qua sto creando carbone Ok Qua ho le bistecche pronte Infatti posso C'è con tre blocchi che ho spaccato Io li inventario pieno Non ci credo Cosa dovrei fare? Come faccio a fare un pavimento? Non puoi Non posso? Non puoi Cioè è orribile Non posso Potresti Dove Sai cosa dovevamo fare? Le slab e rialzare il livello Sì Sì È l'unico modo Lo facciamo Facciamo slab Facciamo slab e alziamo il livello E tappiamo tutto Ci metto due anni Opla Anche questi lì Allora rimetto la terra qui Credo Sì È però Steph Qui che hai piazzato tutto Dov'è? Qui E adesso Facciamo una zona scalino Cosa vuol dire una zona scalino? No ragazzi Non ha senso vivere così Non ha proprio senso Però vedi che tolgo L'erba È quello sì Alcune slab le sto sbagliando Scusami No Dai Stai fermo Stai fermo Ti prego Fermo Steph Guarda Quante ne ha sbagliate Non è colpa mia È difficilissimo Perché quello me l'ha considerato rotto a priori? Perché prende l'erba Ecco perché Capito? Se c'è l'erbetta la sbagli Cosa ti ha dato? Scusami Un sacco di semini Ho rotto No ho rotto una slab Ti ha dato qualcosa di strano Ma no 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 Guarda Steph è pazzito No 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 Guarda Cosa? Come ho fatto a tirarmelo fuori? Va bene Guarda Le slab se le rompi Ti danno uno di jungle log Perché? Meglio Esatto Non fanno un disastro Meglio meglio Fa bene così allora Perfetto Allora io mi voglio prendere il carbone E vado in miniera Coraggioso Grazie Lo so Allora io continuo a fare il nostro Pavimento triste Qua però è un casino perché Se prendo l'erbetta Ecco qua Ho già paura Però è ottimo spaccare questo Perché non so perché è buggato E mi dà un jungle log Non ha senso di esistere ragazzi Allora Devo trovare una miniera già fatta Dai però questa erbetta Altrimenti Altrimenti sei fregato No ho un'idea Sta diventando notte Però qui è anche carino lasciarlo così Allora via 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 Miniera? No? No? Non sembra Non ce l'abbiamo in zona Mi sembra un po' strano Una bella pianura Bella grande Stef Non sembra Parta l'avventura E non torno mai più È tutto sotterrato In questo momento Stef Cioè nel senso che le cose Sono tutte un livello sotto Ed è molto triste Sì che la casa è diventata Un opprobrio Ma infatti ti ho detto Queste sono cose Che tu pensi Che siano positive E invece non lo so Però possiamo sistemare Un pochettino di blocchi d'erba Penso di riuscire a toglierli E ci arrangiamo così Raga Quante probabilità vuoi di non morire? Ci proviamo dai Decidete voi Nei commenti Scrivetelo in questo momento Ok No Lo sappiamo tutti Che non è Una cosa che si può fare Quella che sto facendo Però Sto facendo un casino Io penso che crasho Se continuo così però Dici Eh penso di sì Non so Cioè Probabile Tu non hai idea Di cosa c'è qui Io sto provando A sistemare la casa Quindi sto rompendo Tantissime erbette Ma secondo me Faccio un disastro Però se nascondo le cose Nessuno le vedrà mai Le sotterro Ma come ho fatto a trovare terra adesso Dai via Allora Non abbiamo fatto una porta Quindi cosa essenziale Facciamoci subito una porta Che sennò qua ci entrano i mob Io crasherò Io crasherò Sto rompendo Minecraft Lo sto proprio rompendo Ok No Ti prego Non mi moltiplicare le porte La porta si è rotta direttamente Steph il mondo sta impazzendo Sì Te lo dico Secondo me È tutto pazzo È totalmente Cioè ho rotto la porta Che l'ho posizionata male Perché il livello ovviamente è diverso È praticamente niente Si è rotta Sparita Scomparsa Ragazzi sono arrivata alla bedrock Facciamo così va Rialzata Sono arrivata alla bedrock Gradini Non ci credo E non ho mai incontrato Io spero di trovare qualcosa Tipo un dungeon Non vedo nulla È tutto blocchi Sta laggando Oh mio dio Non è stata una buona idea Steph Io te l'ho detto Che non potevi andare in miniera È un disastro Allora qui cerco di posizionare un po' di roba Questo è positivo Il fatto che lo rompo è positivo raga Perché ho l'inventario totalmente pieno di schifette Cioè ci metto troppo Non c'ho voglia Raccogliamo qui E raccogliamo qui Quanto sono vicino della lava? Non ne ho idea Voglio bruciare Ma no Non fareste robe Speri ho creato talmente tanti brocchi Brocchi Brocchi? Che serve un incendiatore potentissimo Cosa ti serve Steph? Non lo so dire Ok Incendiatore Ho trovato uno smerazzo Inceneritore Steph Inceneritore Esatto Ecco perché non mi veniva Ho trovato uno smeraldo Moltiplicalo no? Non posso prenderlo Come non puoi prenderlo? Non posso prenderlo Posso farti vedere davanti con il mio schermo Girati Vai Guarda 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 Qui è stato Steph o 23-17 Va bene Lasci la scia Ok Tutto normale Come le briciole di pane Per ricordarti da dove sei arrivato Capito? Allora Facciamo che piazzo Questo qua raga Crash a tutto Io ve lo giuro Che facciamo uno di quei crash Che ce lo dimentichiamo Tra dieci anni Allora Devo fare Vorrei fare Anzi Facciamo così Facciamo così Se io riesco a prendere Il ferro Cosa pensi? Siamo pieni di carne Proprio davvero Lo schifo abbiamo Da quanto cibo abbiamo Tutto troppo Allora Ho cercato di fare un po' di carbonella Perché ci posso fare delle torce secondo te Con la carbonella Io queste cose non le so Dammi nel ferro Quindi le provo Perché tanto Steph non mi sta ascoltando Quindi le provo Vediamo se le posso fare Sono diventata Laura Pausini Sì le posso fare Se io ne metto una e la rompo Me le moltiplica? Sì Vabbè Luce nella casa Siamo strapieni di luce Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta del ferro Allora Ok Raga questo è il mio achievement Non ridere Non puoi capire la sofferenza Oh mio dio Ho una quantità infinita di torce Se ti servono Fammi sapere Sto riempendo anche tutte le casse in casa Ormai anche queste Sono praticamente tutte piene E Steph sta meditando Ce la faccio Allora Ho un solo obiettivo oggi Vorrei fare Più veloce Anche un bel tetto Giusto per dire di avere un tetto Raga ovviamente riuscire a prenderlo Sarà un altro delirio Io ve lo dico già Come faccio a salire sul tetto? Perché se faccio una scala Poi la devo rompere Facciamo una scala Oh cavolo Che è successo? Mi è comparso uno scheletro Era fuori casa dalla porta Mi ha fatto pigliare un infarto No Steph mi ha dato due stack Tipo e mezzo di ossa Ed altre tante stack di frecce Ok Sono ricca Sono ricca Sono totalmente ricca Volevo riprendere un po' di torce È il momento Oh mio Dio Perché guarda il mio schermo No Allora Allora mettiamo un po' di torce in giro Così Quanto siamo pieni Come ha fatto a prendermi uno di ferro? Ok Ok Così Così iniziano a non venire più vicino a casa nostra Ah quelli non li prenderò dai Ok Finito Ce l'abbiamo fatto GG Non abbiamo preso il diamante Ma abbiamo preso Allora abbiamo soltanto Una, due, tre, quattro stack e mezzo di smeraldi Cosa vuoi che sia? Nulla Cosa vuoi che sia? Nulla Guarda ti faccio vedere cosa vuol dire avere No No ragazzi Che succede? Torno dentro casa Che è successo? Niente Steph Roba brutta Raccontami Praticamente stavo cercando di picchiare degli z- No Degli zombie Mi hanno fatto rompere dei semini Ho fatto un disastro Esploso anche un creeper E sono tornata dentro casa Questo mini zombie cosa tutto mi ha dato? Delle patate Cioè mi ha riempito di patate Vabbè Vabbè Cibo ne abbiamo per 40 vite Steph Allora Aspetta Adesso ti faccio vedere cosa sto facendo Io volevo fare la scaletta per il tetto Ma non me la fanno fare La faccio interna Ho creato il paradiso Guarda il mio schermo Eh vabbè Eh vabbè Non ho usato neanche un attack Ma è anche troppo Ragazzi Ci fermiamo così Questo mondo è veramente troppo pazzo È una figata pazzesca Qui sotto con un paio di altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao Grazie a tutti